E' un nuovo giorno E siamo con Amelia che gioca ad Isaac Quindi che cosa ha combinato? E' tutto pulito, tutto sistemato Qual è il tuo problema? Hai distrutto tutto quello che ho creato Le zucche sono formate No, se non stai nel lì Non si fanno Ma perchè? A questo punto metti meno un altro punto Le cose Hai capito? Le cacche rose si Perché non si droghi? Guarda se si vede Si sente bene per favore Marco Siamo di nuovo in live Questa volta di mattina ma siamo di sera Ma che culo c'hai Amelia Ma te l'ho detto Ma te l'ho detto Mi deve uscire su ogni run che faccio Oh, cazzo fortissimo Cazzo Questa è la run ragazzi Ma ho detto, te l'hai buttata da sola E' uscito quell'oggetto che mette sanguinamento Che è il doppio dell'anno Bello forte No Da menino perchè è vero che stanno le carine qua Ma non si Le cose si mettono tutte a cazzo di cane si mettono No Eh si E' divertente Si si Quindi allora dobbiamo finire questa cazzo di casa e poi vado in miniera Vado a minare Io però volevo raccogliere della sabbia, della legna E' della sabbia di legna E' arrivato E' accogliere il pomarolo Careless Sansa Ricambi gli iscritti Si lo faccio dopo, non ti preoccupare, l'ho perso lascia Ok aspetta che me lo scrivo A posto Dopo lo faccio Allora che dobbiamo prendere? La sabbia Dei lamenti Dei lamenti? Ci sono dei mob? Posso? Posso parlare? Basta Ma ora non posso io amico La carne marcia non la voglio Allora Io ho detto che dovevo finire la ghiaccia da giù Anzi in realtà l'ho finita perchè Allora Allora Devo fare calma Devi fare casa? Fai casa anche tu? Visto che tu sei qua O la faccio proprio di fronte a te E' fatta di fronte a me Se no facciamo i vicini di casa scemi Facciamo di fronte a te Mi serve la pala Io sto raccogliendo sabbietta per fare un po' di vetro no? E' raccogliendo pure un po' per me Io ho raccolto tipo qualcosa di pietro E che vuol dire scusa? La sabbia è più dura da prendere Ahahah Chiedi una scoreggia e ne prendi una slot Si ma non in un posto dove non ce n'è quasi Questi Marco che vogliono le sabbia Comunque il nostro obiettivo è Ripetiamolo E' quello di sconfiggere tutto il gioco Vuoi esplorarlo Domani verrà un ospite speciale Oggi abbiamo Amelia Domani abbiamo Daniele Sta allaggando leggermente eh Domenico Come scusa? Quanti slot ne vuoi di sabbia Marco? Due? Uno? No Ok 80 kg perfetto Fanno 20.000 euro Sgaricamento a casa o dove? A casa per forza Tutta a mani nude sto facendo A che servono le vale questo gioco? A niente A parte quella roba che hai fatto vedere poco Poco fa Poco fa qualche ora fa Che poi ce l'ho anche Però dico Riferisco le mani La porta in questo caso Sì le porte Ne ho preso già 55 Penso che ci basta tutte e due Sì sì Arriviamo al 64 Arriviamo al 64 Facciamo la completezza Vai a questo punto dai Cos'è un secondo ma quella Quella è quella terra Quella erbola che facevi tu marroncina Nelle tipo vicino casa Come la facevi? Sempre con la bala? Sì Ok Vabbè sto tornando a casa dai Che bella l'acqua Che bella l'acqua Ah Belle l'inted Ti prego ti prego ti prego No Forse con una chiave E la bibbia Ma da quando hai iniziato a giocare ad Isaac Amelia? Ma in realtà da un po' Cioè ho sempre voluto giocare L'ho scaricato Marco me lo fece scaricare Diciamo Illegalmente lo posso dire Sì perchè qual è il problema Tutti lo Tutti lo fanno La penultima volta che è venuto l'ho comprato Ma hai fatto bene Ci sta Il magazzino Il volo sinistro Ma come cazzo li fai questi forti? Mi fai venire Guarda qua come cazzo li hai messi Cioè è assurdo Cioè è incredibile Uno non ha neanche la cosa Cioè Proprio inesistente Una merda Basta li distruggo tutti Allora credendo in Gesù ho un rosario e una bibbia Posso affrontare Uso la bibbia da satana Vai fallo fallo Tu fallo Però fallo solo sei gappi Fallo Che succede? Tu fallo solo sei gappi E dillo Domenico Parlo del corpo di gappi No perchè ti devo Ti devo la sorpresa Se poi si tratta di Inguaiarmi una run Penso che non vengono a fare a casa tu stessa Immaginativo la tua faccia Dopo E' un po' come la mia faccia Quando l'ho fatto Allora ti spiego Cosa succede quando attivi la bibbia Da satana Mori istantaneamente Davvero Pure sei il full cuore Te li leva tutti Li leva tutti Davvero Si Ti uccide stato Io se ti uccide lo sto facendo tipo Star run tutto tranquillo Vado A fare Satana E tipo Aero full art Ho detto vabbè lo massacro C'ho la bibbia Lo stavo per uscire Ma erano la parte dei pestoni Sa per morire Dico vabbè usiamo tutti gli attivi Ho usato la bibbia e sono morto Meno male che avevo tipo La cosa La gappi Mi pare che avevo tipo Sono morto completamente Mi ha fatto rinascere fuori dalla stanza Con tre cuori però Tipo Ma come Come faccio ora Stupida Ma che cazzo ne sai uno Scusami Dimmi come devo fare a saperlo io Dimmi Non lo so Quindi la bibbia è satana in realtà Cosa si è in te No perché Non lo so Penso non voglia che la usi lì Ma questo penso sia sempre il senso Vabbè io comunque sto proprio facendo il Del tipo Se con mamma uccidi mamma Con satana muori tu C'è caos Bello Bella per me Lo dica Ma ho allargato Si un pochettino Io sto allargato No No Il servo Pin Ciao Pin Il boss è stupido di Ice A me fa tanta tenerezza Pin Povero Pin Quando esce da lì Fa il musino triste Dai Fa tenerezza quel personaggio No Fa Ok Broken Watch Beh Marco Sta diventando una casa minimale A suo effetto Dico Ma sono le 23.51 Guardi do una mano io E la dividiamo In che senso la dividiamo? Mi faccio farle le raglie Ma come? Cioè non adesso Però voglio un posto di dormire Ah vabbè Sono come un barbore Io non voglio essere un barbore Ma tu sei un barbore Ah 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 Vabbè Aspetta Domi Prendo il mio letto E lo metto Mamma mia Ma io che cazzo sto combinando su adesso Dove prendo altri Petri Carini Carino Domi Però Cioè Non questo A me questo piace Cioè Al massimo Potevi mettere gli cespuglietti O le stazionate Non in legno così Ma non è legno Questa è terra Questa è terra La vedi? Mica per terra Intendo questo Ah Ma a me piace questo così Vabbè In casa tua Non dico nulla Aiuto sto morendo Bastardo Appusaci Chiudi E buonanotte Dai Non possiamo Ma che palle Uccisi tutti Ma io La pala Mi uccisi E' bella la pala Buonanotte 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 Buongiorno mondo Ma cazzo Ah Lasciamo uscire Passi passi Che cazzo Manca solo la piscina Ed è una casa Spettacolo Forse Bella Vaffanculo Tu non c'entri più a casa Ma vedi tu questi rai Non solo gli offre la casa Guarda il risultato Capisci Che cosa Lo licenzierei da amico Buonanotte Ah vabbè Lo licenziamo Oppure Gli mettiamo Meno soldi Gli diamo Anche se non glielo Di già Forno fusorio cos'è? Scusami Marco Scusami Marco Cosa Non preso Al villager Qualcuno che ci dica cos'è il forno fusorio Gli diamo 20 euro di Marco 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 non dice nulla Quindi la consente A posto Questa corruzione è Comunque Che cazzo dovevo prendere Non mi ricordo Il vetro ce l'abbiamo E mi sta qua la stanza segreta Mamma mia Per esempio Non ci sono stanze segrete Per te Ma delirio l'hai ucciso Marco una volta Si Come è stato? Perché molte volte non mi spunta il portale Ma te l'ho detto Come mai? Perché? Te l'ho detto io a te No te l'ho detto io a te Eh ma poi ho approfondito Vabbè non te l'hai mai Comunque poi loro Oh non litigate su Roma Dai ci siamo capiti Perché ha delle percentuali basse Sono morta Se batti Sabana è il 50% È la probabilità più alta Allora ragazzi questa è l'ultima run che provi Gioca con Anzazel Hai vinto già la prima partita Non mi Anzazel non piace sai È noioso Solo perché lo pensi che sia scarso E che sia troppo forte No perché Non troppo forte ma perché Comunque il range è poco Eh E poi comunque hai tre cuori neri soltanto Vabbè i cuori non sono mai un problema Eh lo so A parte per chi secondo te È il Keeper Il Keeper Il Keeper Io lo odio Keeper Ma Keeper non hai i cuori c'è alle monete Il Keeper va schifo deve morire E non merda Lo odio Però comunque concordi con me Che comunque non è un Keeper è il personaggio peggiore Allora Sai perché è facile Anzazel Perché è un Il personaggio peggiore è Isaac Merda No poverino perché No è Isaac Merda Deve morire Anno già è morto Sono contenta Ma come Ma perché poi ce l'ha con Isaac Poveretto Perché è scarsa No perché è scarsa No 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 Ma no Ti ha offeso Io non me lo facevo dire È scarsa volendo Vai a cagare va Eh Che senti Sì Questo costo xd poi mamma mia xd Rimasto ai tempi di MSN MSN Ma che cazzo stai costruendola Scusami Che sono quei Quei dronchi Quei dronchi messi lì Che cazzo sono Qua è il pavimento Ma per cosa Che cazzo stai combinandola Oggi lo sa Sto facendo la casa a scacchi Oppure sto facendo lo scacchi mobile Ci vuole passare a cacciare una flame tears Brutte le flame tears Che schifo Non le prendere Che schifo E ragazzi c'era solo questo E che cazzo vuol dire E che cazzo vuol dire Questo passava lo stock Questo passava lo stock La rifaccio insomma Putta la pasta Allo se esce un oggetto buono La continuo Wow però mi sono uscite due monetine Belle le monetine No è una monetina da 5 Una da 10 Quello è stato il bello E' una bella una da 10 certo Prima stanza Questa è proprio da Nooo Perfetto Come cazzo lo faccio il tetto Marco? Ecco Nooo non così Ho sbagliato Mannaccia Una miseria Mannaccia Ecco Così Porca miseria Marco perché sei del legno nero Quello la brutto Lo sto per una mano mano Sono buono Sono morto Basta E poi tanto Tipo lo sto facendo Però dico Ma lo sto facendo giusto Andiamo un po' Da una prima stanza Beh vado a prendere legna va Ciao Ok va Ma tu se non dovevi vivere da me tu Com'è finita Non sto facendo cosa Ti facendo il magazzino Ah vabbè Se muoio lascio tutti i miei vedi al mio cavallo In questo gioco Grazie Che non so più neanche se esisto E' morto L'ho ucciso il mio cavallo Perché ho ucciso il mio cavallo L'ho ritrovato E' qui Mamma mia che Marco ma vedi che se ne sta scappando Io dovrei catturarlo sto cosa Guarda dove è andato Guarda dove è andato Fagli un buco sotto casa C'è sotto terra C'è sotto i suoi piedi Testa di cazzo No No Scusate Poverino Testa di cavallo Ho colpito il cavallo No Babbino mio No Non ce la faccio perchè sto disgraziato si muove ogni volta che buco questa terra Guarda che bastardo Infincardo Ma non è che poi gli zombie se lo mangiano Cazzo ne so Cazzo ne so Azzicca Azzicca Bravissimo L'ho anche rincoglionito già che c'è Nel dubbio di muro completamente Addio Mio eroe Un'opzzo Sicarjon Non potrei andare più da nessuna parte faccio per capire dove sta cavallo ci mettono la doccia a posto perfetto ciao beh beh ho comunque parlato di dlc di state of tk di dlc quella roba che hanno fatto di state of tk di nuovo la nuova campagna e tutti praticamente tutti come si chiamano gli zombie sono infetti non ci sono zombie normali presente quelli della piaga del sangue si sono solo quelli ci sono solo zombie con la piaga del sangue in quella in quelli dlc solo che è fuori di testa e poi praticamente a quanto pare segue una trama di una trama proprio precisa capisci cioè segue praticamente la storia che tu scegli all'inizio di alcuni personaggi si è carina della gicchiando come? dai la gicchiando hai alto a diorite? eeeh no la gicchiando si buttalo no 10 ma dai small rock vuoi cosi vuoi anche tu un po' di small rock? compra anche due small rock a 70 euro al chilo porca droga ma porca droga nooo ora come faccio? e niente è impossibile a meno che ce l'ho fatto marco è notte vai a dormire anche se io non posso non ho capito prima cadere il sole come fa a cadere il sole? non hai capito ti ho capito? ecco devo cagare il sole qua al bagno quindi scompare per un po' si vede c'è più un cazzo porca puttana non vedo niente non capisco vai sono a letto non posso soffrire su se cado o muoio scendi e poi e poi chi mi fa risalire su? tu? e per la scala e per l'impalcatore e le cose di pietre che hai visto erano tutte impalcatore non era voluto porca puttana aspetta a posto mi butto c'è uno zombie qui lo ammazzi e non posso dormire c'è uno zombie qui prendo la spada e lo ammazzo se hai un altro zombie qui cazzo buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte